musica bravo a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di simone magicion oggi voglio farvi vedere una partita che ho fatto in questo preciso momento su black ops 2 non ho fatto 30 kill solo con la B23 ora passiamo per il segno al video musica 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info